Ben trovati all'appuntamento con le previsioni meteo in collaborazione con la protezione civile della regione Campania. Sull'Italia è ancora presente un campo di alta pressione che determina prevalenti condizioni di tempo stabile. Nelle prossime ore la situazione risulterà poco evolutiva. Domenica il promontorio tenderà a cedere favorendo l'arrivo di nuvolosità e locali precipitazioni al sud ed in particolare sull'avversante adriatico. Nello specifico in Campania sabato 29 dicembre cielo poco nuvoloso tendente a velato nuvoloso ma senza precipitazioni. I venti spireranno deboli da nord-est con locali rinforzi. Il mare si presenterà poco mosso localmente mosso a largo. Le temperature non subiranno variazioni significative. Gelate notturne tenderanno a permanere sulle zone interne a quote superiori agli 800-900 metri. Locali foschie e possibili banchi di nebbia tenderanno a formarsi durante la notte al primo mattino sulle zone pianeggianti e nelle vallate interne. Nello specifico in Campania domenica 30 dicembre nuvolosità variabile tendente a molto nuvoloso con possibilità di solate precipitazioni in serata. I venti spireranno deboli nord-orientali tendenti a rinforzare la seconda parte della giornata. Il mare si presenterà poco mosso tendente a mosso ma adesso diamo uno sguardo alle temperature. Le massime subiranno un lieve aumento. Gelate tenderanno a formarsi durante la notte al primo mattino sulle zone interne e a quote superiori ai 900 metri. Bene per ora è tutto, grazie per la cortesi e attenzione. Vi auguro un buon fine settimana. Grazie. 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 Grazie a tutti.